L'arcidiocesi di Urbino si unirà a quella di Pesaro. A deciderlo settimane fa è stato lo stesso Papa Francesco accogliendo la rinuncia al governo pastorale presentato dall'arcivescovo urbinato Giovanni Tani, che aveva compiuto 75 anni, limite di età per guidare una diocesi. Dal 5 marzo Monsignor Sandro Salvucci, attuale arcivescovo di Pesaro, si insederà dunque anche alla guida dell'arcidiocesi di Urbino. Un movimento che ha suscitato diversi malesseri, dal punto di vista storico così come da quello territoriale. Ma Monsignor Salvucci, arcivescovo di Pesaro dal 1 maggio 2022, si ritiene pronto al dialogo per comprendere ogni tipo di preoccupazione. Credo che tutti coloro che hanno espresso motivi di difficoltà o anche di contrarietà sono persone che meritano attenzione, meritano attenzione ai temi che sono stati posti. E come pastore della chiesa di Urbino, condiviso insieme con la chiesa di Pesaro, dico che presto presterò attenzione a tutte queste istanze e anche osservazioni, perché il desiderio che penso muove chi si è espresso anche in termini di contrarietà e il desiderio che mi appartiene come pastore è il medesimo desiderio, cioè quello di operare per il bene del popolo che vive quel territorio. E dunque, ecco, questi mesi, questo tempo, settimane di preparazione, mentre porto avanti il mio impegno pastorale nella diocesi di Pesaro, è anche fatto di tanti contatti, incontri, per iniziare nel modo migliore possibile il servizio nella chiesa, quindi nel territorio di Urbino. Parole espresse dall'arcivescovo al termine di un incontro con la stampa locale, avvenuto in occasione del centenario della proclamazione di San Francesco di Sales come patrono dei giornalisti. Certamente San Francesco di Sales è il patrono dei giornalisti perché questo santo, vissuto quattro secoli fa, comunicava anche attraverso dei fogli volanti che scriveva e infilava perfino sotto le porte delle abitazioni. Quindi un pioniere della comunicazione. Cosa comunicava San Francesco di Sales? Comunicava notizie e messaggi di speranza, naturalmente da uomo di fede. Qual era? Una speranza che parte dal Vangelo. Il Vangelo è buona notizia.